Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, 28 marzo. Sono successe un po' di cose ieri e oggi sul giornale ovviamente c'è il riflesso di quello che è successo. Ci sono delle grandi cose che sono avvenute di cui secondo me bisognerebbe parlare poco nella nostra zuppa, ma i giornali ne parlano tanto, pagine e pagine, secondo me un po' gettate nel vuoto. Ci sono delle piccole cose che invece mi hanno incuriosito e che tra poco vi racconto. Intanto buon fine settimana a tutti quanti voi quarantenati e tutti noi isolati invece perché positivi. Cosa è successo? Ha parlato Mattarella e ve la faccio breve, guardate non perdete tempo, ve lo dico io. La cosa sostanziale di Mattarella, peraltro come titolo tutti quanti i giornali, è che l'Unione Europea, l'UE, superi i vecchi schemi. Sostanzialmente Mattarella dà una mano all'Italia complessivamente dicendo che non funziona questa divisione tra nord e sud. Sulla questione di Mattarella forse la cosa più interessante sull'Europa è il commento di Prodi oggi sul messaggero che dice che è ridicola anche questo rimando di 15 giorni. Lui che conosce i meccanismi della politica è molto interessante e perché dice Prodi sul messaggero guardate che loro hanno deciso di rimandare di 15 giorni, non come avevo detto io e avevo letto ieri sui giornali facendo diciamo 5 presidenti, bce, euro, gruppo, consigli che si mettono d'accordo per trovare una soluzione. No! Cosa hanno fatto? Ha rimandato 15 giorni perché decidono i ministri delle finanze. E allora Prodi si chiede, toc toc, ma scusate se i loro superiori, cioè i capi di Stato, non decidono, secondo voi possono decidere i ministri delle finanze? Cioè è una grandissima, gigantesca pesa per i fondelli, cosa che Prodi non dice così esplicitamente, dice però esplicitamente che, come sempre, e io mi sono fissato su questa cosa, che la questione fondamentale è l'oltransismo dell'Olanda, che è la punta di diamante contro la quale si va. L'unica cosa interessante, che contro i paesi del sud, e questa è una roba che a me mi fa ribollire, ma in realtà l'Olanda è soltanto, voglio dire, uno dei paesini perché, voglio dire, potete pensare che l'Europa si appesa a Olanda e Finlandia, beh, insomma, adesso francamente, con tutto il rispetto nei loro confronti, temo di no. Oggi però, nell'intervista a Conte, non leggetela, sulla stampa, sulle 24 ore, è una cosa totalmente inutile, cioè se volete passare bene questo sabato mattina, vedetevi la zuppa e non leggetevi Conte, perché dice sempre le stesse cose, ma una cosa la ammette, e cioè c'è stato un confronto duro e serrato e franco con la Merkel, benissimo, l'ha detto. Nel frattempo, a parte questa intervista, più interessante invece, perché politicamente molto interessante, le dichiarazioni di Macron, che fa, non a caso, in su due giornali italiani, il Presidente della Repubblica Francese, sia la Repubblica sia il corsiera, dice che l'Europa, se inorangisce, muore, e soprattutto che la posizione della Francia è con l'Italia e con la Spagna. Beh, insomma, come dice Sapelli, oggi mi sembra sulla verità, forse un pochino si rompe quell'asse franco-tedesco, almeno per il momento, perché il punto vero è che l'asse franco-tedesco, come insegna la storia recente dell'Europa, poi quando c'è da fare i conti, si risalda sempre. Questo per quanto riguarda, diciamo, Mattarella, Macron, Conte, di cui vi ho parlato. Beh, vabbè, poi è stupendo. Perché oggi leggo Galli della Loggia, Galli della Loggia ha l'articolo qua e qua sotto c'è l'articolo di Mario Monti. Io quando leggo l'articolo di Mario Monti già mi prendo un po' l'allergia, perché l'idea che uno, come Mario Monti, ci possa spiegare dove andare, dopo il suo drammatico fallimento e la sua ipocrita, diciamo, come posso dire, forza, perché io sono il professore della Bocconi, e poi si fa senatore vita, fa presidente consiglio, non ha la dignità minima che si dovrebbe avere di dire, scusate, mi ho provato a governare, ci sono riuscito, secondo alcuni, secondo altri no, e li torno a fare il professore. No! Il senatore a vita! Vabbè, il senatore a vita è sotto il pezzo di Galli della Loggia e Galli della Loggia sopra ci spiega che Conte ha avuto una fortuna pazzesca nell'avere questo virus, anche se non l'avrebbe mai voluto avere questa fortuna, ma, dice Galli della Loggia, adesso deve mettersi alla guida di un nuovo, non di un nuovo partito, ma di un partito esistente, il Movimento 5 Stelle, il PD, e lui rifonderà la Repubblica. Una sorta di De Gaulle per Galli della Loggia, Conte e De Gaulle! Così come per il Corriere della Sera, Monti era De Gaulle! Così come per il Corriere della Sera, lo stesso Galli aveva votato il Movimento 5 Stelle, e Galli sosteneva che Berlusconi stava facendo nel 94 un partito di plastica. Con tutto il rispetto nei confronti di tutti questi professori, ragazzi, giudicate voi! Ma poi è stupendo avere Galli della Loggia sopra che ci dice che Conte sarà il nuovo De Gaulle, e sotto il vecchio De Gaulle, Monti, che scrive le sue ricettine, sullo stesso giornale e sugli stessi opinionisti che lo consideravano De Gaulle nel 2011. Vi potete fidare di questa gente dal punto di vista intellettuale, ovviamente, io direi proprio di no. Poi, riguardo al giornale unico, io vi ho sempre detto che mi sento un marziano rispetto a quello che fanno i giornali, perché oggi ci sono due informazioni rispetto all'epidemia. Sapete quali sono? La prima, il record dei morti, 969. Ogni morto è drammatico, ma questi morti sono superiori a quelli dei giorni precedenti. E poi ti dicono che ci sono non so quanti contagi, ma che sono in calo. E i titoli dei giornali e i contagi in calo, ma i morti sono 964. In realtà, ragazzi, c'è un dato vero che sono i morti, e un dato finto che sono i contagi! Perché i contagi, non facendo i tamponi a tutti, non facendo test, 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 a tutti quanti, non li conosciamo, ma conosciamo i morti, perché i morti non riescono e nessuno li può occultare. Magari sono esagerati rispetto ai tedeschi, però il punto fondamentale qual è? Che vogliono dimostrare a tutti i costi che stanno adottando le tecniche più giuste, ma quello che stiamo dimostrando, che noi e gli spagnoli stiamo adottando dei modelli sbagliatissimi, che il paziente zero, come scrive il giornale, purtroppo è quello economico oggi di cui dovremo occuparci, oltre a quello sanitario, e invece non facciamo nulla, zero, niente! Non abbiamo risolto il problema dei morti, perché qui siamo morti di burocrazia, e non abbiamo risolto il problema economico che ci piomberà come un camion addosso fra un mese, e noi zitti e muti con Arcuri, con Borrelli, con Conte De Gaulle, non solo Winston Churchill, De Gaulle l'ha definito. È una roba fantastica, nel frattempo Sala, intervistato oggi dal Corriere della Sera, dice che ripartirà Financo, Milano, ma molto lentamente, perché comunque il governo ha deciso che oltre al 3 aprile, e questa è una notizia di cronaca che mi sono dimenticato di dare, ci vorranno altri sicuramente 15 giorni per aprire. Seconda piazza, quella del Papa, io qui faccio soltanto una notazione, perché io mi sono emozionato a vedere ieri il Papa, l'ho fatto vedere su Instagram, è una grande immagine, però io voglio dire una cosa pazzesca, secondo me. A parte Repubblica, che apre sul Papa perché è diventato il giornale più papista insieme all'avvenire, la cosa incredibile è che quello che ha impressionato il 99% di noi e dei giornalisti, pensateci un po', è la piazza deserta, non quello che ha detto il Santo Padre. Non perché sia banale quello che ha detto il Santo Padre, ma perché forse non è stato così intenso come quella piazza deserta, perché quella piazza deserta è forse quella frase che non hanno colto in molti, ma che io oggi ho ritrovato, e cioè quel colonnato di Roma che abbraccia non solo la capitale d'Italia, non solo la capitale del cristianesimo, ma anche abbraccia il mondo, cosa che ha detto il Papa non è stata notata da nessuno. Lì c'è la tradizione, il sapore, Roma, la nostra cultura. Questo è uscito ieri dal Papa, purtroppo più di quanto sia uscito dalle sue parole. Ovviamente le parole tutti quanti non ci salviamo da soli, perché in questo spirito collettivistico e poco individualista, insomma, repubblica è l'avvenire su questo Godon, d'altronde questo è il Papa, è quello che dice, ma che deve dire il Santo Padre, ovviamente. Andiamo sulle cose che invece mi riguardano da vicino, cioè il giornale. Qui non arriva un euro, titola il giornale di Sallusti, e fa bene, perché qua non è arrivato nulla e ci sono i primi saccheggi nei supermercati, perché la gente inizierà ad essere disperata. Questi cazzoni che fanno le interviste, vanno in televisione, fanno le conferenze stampe, non hanno capito che sulla CIG stanno sbagliando tutto. L'ha scritto oggi la Calderone, la capa dei consulenti del lavoro, perché è un casino avere la cassa integrazione. 13 miliardi al mese, procedure assurde, il bollo da 16 euro, lo sapete. Toc toc! Alla regione Lazio, lo sapete che è piena la casella di posta elettronica per accedere alla CIG? È piena! E vi mando un messaggio d'errore, fra poco lo faccio vedere sul mio sito. Scusateci, no scusateci non lo dicono, ovviamente i funzionari della regione e gli informatici. La riprovate perché la casella è piena. Insomma, moriremo di burocrazia. Nello stesso tempo le stime di Prometeia, ma i commercialisti fanno stime ancora più dure, dicono che il PIL scenderà del 6,5%. Abbiamo abolito il salone del mobile, nel 2020 non ci sarà il salone mobile. Meggiate quanto business c'è. Solo in prima pagina una notiziola, sia sul quotidiano nazionale, sia sul sole. Allarme, liquidità, dice giustamente il sole 24 ore, perché le aziende non hanno il cash. E ci sono pagamenti per 40 miliardi, dicono che rischiano, pagamenti che rischiano. Quando autonomi non beccano una lira, quando la CIG non viene fatta, quando non ci sono più risorse. Ragazzi, il paziente zero della rivolta sociale è, lo dico, dal primo giorno di questa emergenza. Questi non ci stanno pensando, non hanno capito, come non hanno capito su One. Non hanno capito che qui sta arrivando uno tsunami economico. Dobbiamo sbrigarci. E poi, guardate, non mi sarei mai immaginato nella mia vita di dover stare, ma stare, ma non convinto, più che convinto dalla parte di Fedez. Avete capito? Fedez! A prevedere, tra l'altro sento sempre le sue cazzo... Ma sapete che cazzo è successo? È una roba che io ve la voglio raccontare, perché questa è l'Italia, per cui uno come me sta con Fedez! E vi spiego perché. Perché Fedez con sua moglie cosa fanno? Una colletta. Lo leggo oggi sul Libero, cioè non certo un giornale di sinistra. Fanno una colletta. Questa colletta ha un grande successo e riescono in, quanti giorni, una settimana? In pochissimi giorni ad aprire un padiglione nuovo con 60 posti, 30, 60 posti, al San Raffaele! Al San Raffaele! Grazie alla colletta che si inventa Fedez, spendendo con sua moglie la sua cazzo di credibilità, la sua faccia, quello che a voi non piace o che vi piace. Fa un sacco di soldi e c'è un reparto nuovo al San Raffaele, grazie a quello che fa con questa colletta. Arriva la Kodakons, quelli di Rienzi, e attaccano Fedez perché i soldi non li ha dati alla protezione civile, ma li ha dati al San Raffaele! Attaccano Fedez perché lui non è un burocrate! Attaccano Fedez, attaccano Fedez perché lui avrebbe dovuto dare i soldi alla protezione civile e quindi li avremmo dovuti perdere nel calderone per il quale basta vedere ieri Arcuri che dice colpa delle regioni, no le regioni e ancora non abbiamo le mascherine, abbiamo affidato la protezione civile e il sequestro delle mascherine, ancora non abbiamo le mascherine e negli ospedali non agiscono ancora con sicurezza e questi del Kodakons, che non so chi diavolo rappresentano, si mettono a discutere verso un caso di eccellenza privata come pochi altri, Moncler, Berlusconi, Caprotti, danno milioni di euro, Ferrero, danno milioni di euro alcuni alle regioni, alcuni alla protezione civile, ma loro le hanno date direttamente e hanno fatto bene! Bisognerebbe fargli una statua equestre, non sto esagerando, ma come cavolo gli viene in mente di discutere perché questa è l'Italia, questa è l'Italia degli avvocatincoli e l'Italia di quelli che cercano di risolvere i problemi voi quale Italia secondo voi ci servirà nei prossimi mesi? Quelle delle procedure, dei rimandi, del combinato disposto delle nostre autocertificazioni, oppure quelli che dicono ragazzi facciamo in fretta, risolviamo i problemi tra l'altro hanno risolto i problemi con un DPCM nel tenerci tutti a casa e violando tutte le nostre libertà mentre qua stiamo ancora a farci le pippe burocratiche e amministrative per come comprare l'ospedatore e come comprare le mascherine io la trovo una cosa, il simbolo, il simbolo di un'Italia morta, l'ipocrisia burocratica vince su Fedes brava Monica, ma non vince perché quelli soldi dati l'ospedale l'ha fatto ed è incredibile che ci sia qualcuno che discute beh poi l'altra questione di oggi è che Johnson si è preso il coronavirus e come scrive Giovanni Sallusti oggi sul libro tutti a godere, tutti a godere della verità, ma io vi leggo soltanto, lui ricorda per esempio questo Lopalco che è un virologo, mi sembra che sia il consulente della regione Puglia che dice la fortuna è cieca ma il virus ci vede benissimo cioè un medico che gode perché qualcuno si è ammalato, voi vi rendete conto, in un paese normale un medico che gode perché qualcuno si ammali di una malattia, che lo stesso virologo ci spiega che è grave che cosa gli fate a quel virologo? No, voi mi dovete spiegare cosa fate a un medico che gode che qualcuno si ammali che sia un carcerato, che sia un detenuto, che sia un omicida, che sia un medico che gode Lopalco gode perché Johnson si è preso la malattia, ma la cosa straordinaria è che il Corriere della Sera che sono sempre molto attenti ai titoli ovviamente, dicono contagiato, il titolo contagiato Johnson l'ex negazionista toc toc, no scusate, no scusatemi, voi vi permettete di definire negazionista Johnson che aveva una ricetta diversa rispetto a quella dell'Italia e non vi ricordate che il 4 febbraio il 4 febbraio, quando tutti sapevano che c'era questo morbo e quando abbiamo visto la Cina il vostro adorato De Gaulle, Corriere della Sera, e il vostro adorato Churchill, Corriere della Sera, cioè Conte diceva che la situazione era assolutamente sotto controllo toc toc, ve la prendete con Johnson definendolo negazionista nei titoli e vi dimenticate che da Fazio, che voi adorate cari amici di Repubblica e anche il Santo Padre da Fazio Burioni aveva detto che in Italia c'era rischio zero allora per favore, siccome i virologi non ci hanno capito nulla, direi poco, e oggi pontificano e siccome il Presidente del Consiglio, almeno legittimamente, ha comunque cambiato idee con 5 decreti considerare negazionista e godere perché si è preso Johnson il virus mi sembra una cosa di uno squallore, mostruosa, che poi un medico goda di questo, è drammatico e si occuperanno di mascherine, l'ho letto sulla stampa, respiratori e dispositivi su cui siamo in un ritardo mostruoso, nonostante il 4 febbraio, quando è che l'ha detto Conte che era tutto pronto? L'ha detto il 4 febbraio, nonostante sia tutto pronto dal 4 febbraio ancora non siamo pronti per un cavolo, tranne i privati come Fedez che sono riusciti a portare i soldi e le mascherine, beh insomma vi voglio dire questa roba qua, che se ne occuperanno i militari e posso dirvi una cosa, io sono ben felice, penso che i militari siano l'unica burocrazia che in questo paese ancora finché non la distruggeranno funziona decentemente anzi bene, preferisco togliere d'Arcuri ai commissari straordinari, preferisco toglierlo a Borrelli, sono ben felice oggi come oggi con una protezione civile distrutta dagli errori del passato che questa roba se ne occupi i militari, che perchéggio di quello che abbiamo fatto noi in questo fino ad ora non ci si riesce. Trump nel frattempo per dirvi un'altra la leggo oggi sui giornali, una di quelle notiziole che mi sembra che sia, non mi ricordo forse sul sole 24 ore, sapete cosa fa? Va dalla General Motors venerdì e gli dice ieri, gli dice senti General Motors, una delle più importanti aziende americane, tu adesso da ora in poi inizi a fare ventilatori, ma no ma veramente come no? Sì da ora in poi fai ventilatori, allora in un momento di emergenza gli esecutivi ragionano così, tolgono libertà ai cittadini ma tolgono per un attimo anche le libertà se proprio pensano che sia un'emergenza alle industrie invece di fare i fenomeni. Ultima notazione, beh no, ultime due notazioni, Wall Street Journal dice che c'è la corsa all'oro nel senso che tutti stanno cercando di chiedere alle zecche di stampare più lingotti d'oro, tutto il mondo alla ricerca di un bene di rifugio come l'oro e questo è un brutto segnale per l'economia perché quando si cerca l'oro vuol dire che è morta l'economia. Ultima notazione, permettetemi di farla, io sono rimasto incredulo nel vedere oggi Giuliano Ferrara sul foglio diventare un Marco Travaglio qualsiasi, cioè esattamente uguale Ferrara come Travaglio, Travaglio ce l'ha con Ferrara e invece Ferrara sapete con chi ce l'ha? Con Salvini. Oggi dice l'idiota la cui voce si è mescolata con lo sparatore di macerata, la fine dell'illusione della Lega e del suo buon governo del Nord. Salvini è buono per il bando della vita civile. Insomma dice delle cose su Salvini, voglio dire micidiali, ognuno può dirle, io sono dell'idea che ognuno ovviamente a differenza di quello che pensano loro ognuno può scrivere quello che gli pare, e anche cose tremende come queste contro Salvini. Mi fotte poco parlare di Salvini, non ne ho parlato come avrete visto nelle ultime settimane perché da qualche parte condivido, oggi lo scrive qualcuno, l'opposizione non è che in questo periodo ovviamente possa emergere granché, però adesso che Ferrara diventi Travaglio nel momento in cui c'è tutto sto gran casino e insomma vedere Ferrara come Travaglio nel linguaggio, nella volgarità, nel, come si chiama, come la chiamavano loro, nella character assassination, ce l'avano spiegata al foglio quando ci lavoravo contro Berlusconi, la stessa identica cosa che loro hanno subito su Berlusconi e oggi la fanno su Salvini. Devo dire che è uscito di testa, è uscito di testa, anche perché non è neanche centrale oggi, il discorso di Salvini oggi mi sembra la cosa meno centrale che ci sia. Oggi forse converrebbe giudicare un governo che non sta avendo risultati nel contenimento sanitario e un governo che non si sta occupando della grandissima emergenza economica che ci arriverà con un treno in faccia tra poco. Bene, io direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento sul sito nicolaporro.it e lì ne vedrete di tutti i colori. Ciao.